Che cosa vuol dire parlare in modo autentico? Cioè comunicare con le persone con autenticità. Molto spesso le persone confondono l'autenticità con la comunicazione e le tecniche di comunicazione, quindi l'abilità di comunicare. Molte persone infatti mi dicono ma io non sono capace di comunicare, non mi sento all'altezza. In realtà succede qualcos'altro, che le persone non si comprendono davvero quando stanno comunicando e interagendo con clienti, autori, colleghi, colleghe. Questo significa allora che non c'è un ascolto reale di se stessi. Vediamo il contrario. Cosa significa essere non autentici? Non autentica è una persona che non rispetta se stessa. Cioè che cosa pensa? Che cosa pensa di un tema, una questione, una problematica? Ma non rispetta nemmeno i propri sentimenti, le proprie emozioni. Per esempio stiamo presentando un prodotto, un servizio, anche un nuovo progetto, una nuova idea e intimamente c'è qualcosa che non ci convince. Non ci convince del nuovo progetto qualche cosa, un dettaglio. Io spero che non sia proprio l'intero progetto a non convincere, ma può capitare anche questo per l'amor del cielo. E quindi che cosa succede? Come possiamo comunicare un nuovo progetto se non ci crediamo? Se non siamo noi i primi a crederci, ma come possiamo coinvolgere le persone in modo tale che loro credano a ciò che noi non riteniamo davvero credibile per noi? Ma non va bene, non va bene, non è possibile. E allora dobbiamo prima recuperare la nostra autenticità. Le tecniche non servono a niente, infatti, se noi non recuperiamo i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre convenzioni. Questo è il vero lavoro da fare. Questo discorso ve lo sto facendo perché proprio questa settimana ho parlato con una persona che ha vissuto un blocco enorme nella comunicazione ed è una persona che ha sempre comunicato. Perché? Perché le avevano inculcato l'idea che dovesse esporre certi contenuti. Ora io non ce l'ho con i marketer o con chi ti dà i consigli, i guru consigli per cui a tutti i costi devi dire certe cose in un certo modo, con una certa sequenza, con certi contenuti. No, non mi sto rivolgendo a loro. Sinceramente non mi interessa. Ma mi rivolgo invece a tutte le persone che rischiano di subire questi contenuti indotti, obbligati. Perché? Perché se volete comunicare cose che non vi appartengono, il rischio è proprio che non ce la farete, che arriverete al blocco. Perché sentirete che quei contenuti non sono congruenti con la vostra natura. Dico una parola grossa. Non sono congruenti con la vostra anima, con la vostra interiorità. Non ci crederete abbastanza. Ecco da dove può arrivare il blocco. Nei contenuti, nella forma. Quindi certe modalità spinte di voler vendere a tutti i costi, che non appartengono a tante persone e quindi nel voler imitare altri modelli. No, questo non va bene. Il vero lavoro allora consiste nella autoscoperta. Cioè io sto comunicando, sto parlando e quindi sto scoprendo delle cose di me. Cioè che cosa penso realmente, che quali sono le mie credenze, le mie convinzioni, i miei sentimenti. Questo è faticoso, certo, perché significa spesso scoprire che perché, santa pazienza, di quel servizio, di quel prodotto, ci sono dei passaggi che proprio non mi convincono, non mi piacciono. E questo può in generale una certa sofferenza. Ma come faccio io a sostenere queste idee se non mi convincono? Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Quindi puoi scoprire delle cose di te, dei contenuti tuoi, che ti possono mettere in crisi. Ma va bene, perché questo ti permette di crescere. Cioè di conoscerti meglio, di evolvere e di andare maggiormente in profondità. Il consiglio che vi do allora è quello di entrare davvero in relazione con voi stessi, voi stesse, e per trovare quindi la vostra autenticità. L'autenticità è una porta spalancata verso l'autorevolezza. Allora, l'autorevolezza non è dettata dalle tecniche. Le tecniche sono semplicemente dei mezzi. Attenzione perché spesso, spesso confondiamo i mezzi con i fini. Il fine non è dare una bella presentazione, ma quello è un mezzo. Il fine è esprimere noi stessi, i nostri contenuti, portarli ai nostri interlocutori e alle nostre interlocutrici in modo tale che ci sia una reale connessione umana. Se manca la connessione umana, ma come può esserci la connessione professionale? E allora, cerchiamo la connessione umana, cerchiamo l'autenticità, la genuinità, ed è questo che ci permette quindi la autorevolezza. Autorevolezza, una parola bellissima. Noi non possiamo decidere di essere autorevoli. Possiamo decidere di essere sinceri con noi stessi, quindi autentici con noi stessi, noi stessi. Ricordiamoci che questa parola autorevolezza contiene la parola autore, autore, autrice. Vuol dire allora che quando noi siamo autentici, cioè se siamo genuini con noi stessi, diventiamo davvero autori dei nostri contenuti. Perché? Perché ci crediamo. Questo passa ai nostri locutori, questo transita, arriva loro. Se noi abbiamo dei sentimenti piacevoli per noi mentre stiamo comunicando, non c'è tecnica che tenga, non ci servono a niente le tecniche. Poi sì, possono dare l'aiutino, il sostegno, l'aiutino, che brutta parola, ma comunque possono sostenere le nostre idee, i nostri contenuti e la nostra autenticità. Ma ciò che più conta è la connessione con noi stessi. A presto.